ciao ragazzi un saluto dal tarfone allora mi trovo qua nella lobby di forgotten world per annunciarvi che domani mattina alle ore 10 sarò in live un'oretta prima dell'apertura del server di jet ok pacchetto tecnico moddato con delle recyperi fatte dai ragazzi di forgotten world qua intanto sono nell'aurea nell'area della lobby dove si inizia tutti quanti assieme e per accedere domani cosa dovrete fare iscrivervi se volete al forum di forgotten world sarebbe buona cosa oltre per andare a leggervi il regolamento ok e capire come funziona il server scaricare il launcher una volta scaricato il launcher troverete appunto il pacchetto jet che vi scaricherà tutto quanto lui nel launcher dovrete inserire username e password del vostro account minecraft premium per cui è solo per minecraft premium fate tasto destro e cliccate su jet tecnologia magia impianti quest gioca nel super moddato di forgotten world cliccandoci vi fa entrare ovviamente a me al momento non mi fa entrare perché ma c'è una manutenzione in corso ok hanno chiuso la white list per cui non ci si può collegare questo volendo al portale che buttandosi dentro vi teletrasporta dentro nel mondo di di jet però al momento giustamente disattivato per cui ragazzi vi aspetto domani alle ore 10 sul mio canale sia di twitch che di youtube farò la live in contemporanea e poi dalle 11 in poi potrete accedere tutti quanti all'interno del del nuovo server moddato di forgotten world ovviamente se avete domande o altro fatto nel pure qua sotto io vi risponderò e la live di domani mentre potrò entrare un'oretta prima giusto per farvi vedere un attimino il mondo insieme fare due chiacchiere spiegare a chi vuole entrare cosa deve fare come deve fare ok e dopo magari si può giocare assieme ci troviamo assieme dal tarfoni tutto un salutone al prossimo episodio ciao ciao